Anche le cose puoi stessi, perché c'è il mio corpo e la sangue è semissima Gesù. Questi vorrei in adelante, io voglio essere differente, perché su Cristo entrò un mirano e un mito che cambiò. Il mio corpo e la sangue è semissima Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.